Scrivania. Computer. Colloquio di lavoro. Ricezione. Segretario. Fattura. Stampante. Contabile. Stipendio. Squadra. Portapenne. Ascensore. Corriere. Busta. Cucitrice. Calendario. Adesivo. Forbici. Matita. Raccoglitore. Clip. Biglietto da visita. Sala conferenze. Magazzino. Vacanza. Pensione. Incontro. Ufficio. Telefono. Lavagna. Documenti. Cassetto. Aria condizionata. Aria condizionata. Tastiera. Mouse del computer. Lampada. Note. Linea. Calcolatrice. Puntina. Fotocopiatrice. Timbro. Trituratore. Prolunga. Posto di lavoro. Cuffie. Tempera matita. Sedia girevole. Macchina da caffè. Proiettore. Altoparlanti. Microfono. Nastro adesivo. Cartella. Attore. Pittore. Parrucchiere. Elettricista. Elettricista. Autista di autobus. Meccanico. Cucinare. Dentista. Dottore. Sarto. Contadino. Pompiere. Avvocato. Poliziotto. Postino. Insegnante. Venditore. Veterinario. Veterinario. Direttore. Ingegnere. Giornalista. Minatore. Infermiera. Cameriere. Assistente di volo. Falegname. Cassiere. Architetto. Disegnatore. Donna delle pulizie. Pasticceria. Fiorista. Giudice. Bagnino. Massaggiatore. Massaggiatore. Taglialegna. Idraulico. Grafico informatico. Domestica. Orologiaio. Muratore. Muratore. Barista. Calzolaio. Giardiniere. Modello. Archeologo. Aggrifiko. Ap presumably. La. Si. Día. La. Día. Grazie a tutti